Incidenza dei positivi al 2% in Sicilia, record di vaccinazioni nel corso dell'ultima settimana. A Palermo nessun positivo riscontrato nel lab vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Giuliana Miciche. Sono 273 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 13.367 tamponi processati con una incidenza al 2%. La regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 4 per un totale di 5.897. Il numero degli attuali positivi è di 6.864 con un decremento di 497 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 766. Negli ospedali ricoverati sono 375, 25 in meno. E quelli nelle terapie intensive sono 38, come nel precedente rilevamento. Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province. Palermo 37, Catania 68, Messina 26, Siracusa 6, Trapani 4, Ragusa 73, Agrigento 10, Caltanissetta 7 ed Enna 42. Nel frattempo è stato raggiunto un nuovo record di vaccinazioni anti-Covid in Sicilia. In particolare da venerdì 4 a venerdì 11 giugno nell'isola sono state effettuate 366.662 somministrazioni, di cui l'84% come prima dose. E l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza commenta È un risultato che ha consentito quindi di oltrepassare per l'ennesima settimana consecutiva di oltre 50.000 dosi il target assegnato alla regione siciliana dalla struttura commissariale nazionale diretta dal generale Fiduolo. In Sicilia sono state già effettuate oltre 3 milioni di somministrazioni con un milione di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Procede dunque sempre più spedita la campagna vaccinale. È un evidente segnale da parte dei siciliani di voler ritornare a una vita normale. È un traguardo che inoltre premia gli sforzi della regione che proprio in queste settimane ha potenziato ulteriormente la rete di hub e centri di vaccinazione nell'isola, conclude Razza. E nessun caso positivo è stato riscontrato ai tamponi del drive-in dell'hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo. È la prima volta che succede in otto mesi dal 22 ottobre dell'anno scorso, cioè da quando ha aperto la postazione per i tamponi rapidi a Palermo. I 600 tamponi eseguiti ieri alla Fiera del Mediterraneo sono stati tutti negativi. Il commissario dell'emergenza Covid nella provincia palermitana, Renato Costa, commenta È una notizia emozionante che ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici. Continuiamo con i vaccini, mascherine e distanziamento e potremo tornare presto alle nostre vite. In vista di un momento storico che è quello dell'inizio della sconfittura... Grazie a tutti.